buongiorno a tutti in questo video ci occupiamo del sesto articolo vediamo un po costituzione italiana del sesto articolo la repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche sapete per chi è perfetto questo articolo per gigino di maio luigi di maio è un politico italiano ex esponente di spicco del movimento 5 stelle è stato eletto deputato nella xvi legislatura dal 2013 al 2018 ricoprendo ruolo di vicepresidente della camera i più giovani nella storia d'italia nel settembre 2017 è stato scelto dagli iscritti quale capo politico del movimento alle successioni e elezioni politiche del 2018 è stato rieletto deputato per la xvi legislatura dal 2018 al 2022 nel corso della quale ha ricoperto le cariche di ministro dello sviluppo economico del lavoro e delle politiche sociali nonché di vicepresidente del consiglio nel governo conte i 2018 2019 quindi il ministro degli affari esteri nel governo conte i 2019 2021 e nel governo draghi 2021 2022 a seguito delle sue progressive divergenze con il movimento da cui si era dimesso come capo politico già il 22 gennaio 2020 successivamente fuoriuscito nel giugno 2022 assieme ai parlamentari a lui vicini creando il gruppo parlamentare centrista insieme per il futuro il quale a sua volta ha dato vita al partito impegno civico con il quale di maio si è presentato all'interno della collezione di centro-sinistra alle elezioni politiche del 2022 alle quali però non è stato rieletto il successivo 22 ottobre ultimo giorno del suo mandato ministeriale si è dimesso anche da segretario di impegno civico ad aprile 2023 viene indicato come rappresentante speciale dell'unione europea per il golfo persico assume l'incarico il primo giugno 2023 voilà la repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche come ad esempio i congiuntivi e i condizionali di luigi di maio va bene rischiamo questa roba non esistono più minoranze linguistiche né maggioranze abbiamo dei sistemi software dei computer delle delle applicazioni che permettono di tradurre in tutte le lingue siamo anche in grado di imparare le lingue se vogliamo ci vogliamo tutti bene quindi non serve a niente questa roba va bene passiamo a tra l'altro di maio è diventato un ministro degli esteri con quante preferenze momento 189 preferenze da 189 preferenze al ministero degli esteri se questi non sono dei burattini che cosa sono va bene grazie al prossimo video ciao cari ciao